siete appassionati di tecno? ho due date da segnalarvi la prima il 30 di giugno ci sarà il May Day di Ibiza con Dimitri, Mark Spohn, Bonsai Posse e Paul Elstack la seconda invece sarà in Italia il 20 di luglio al Totorico di Riccione dove andrà in scena la festa di Front Page col giornale culto per tutti gli appassionati di tecno sicuramente ci saranno DJ Woody, non mancherà l'italiano Cirillo e tutti i maggiori esponenti della tecno tedesca